E tu? Non sei un estraneo a tutto questo. Puoi tornare ad essere protagonista delle tue origini e sviluppare nuove forme di economia, insieme a noi, proprio qui dove c'è ancora molto da fare, dove il turismo si basa sulle nostre e sulle tue radici. Questo è tutto l'Abruzzo, che bellissima, perché c'è tutta questa natura, gli animali, l'autenticità delle cose, dei luoghi. Bellissima! Puoi dare forza alla comunità di cui fai parte. Puoi valorizzare la terra dove ci sono stati i tuoi primi passi. Puoi creare una rete di multipropietà, affidando la gestione dei tuoi patrimoni a coloro che ne comprendono davvero il valore. La distanza non è più il limite. Puoi tornare in Abruzzo, da Abruzzese, e diventare socio insieme ai tuoi pesani, mettendo a frutto valori e beni riconosciuti da tutti, come autentici. Così sarà il nostro miglior ambasciatore nel mondo. Piccoli noi riusciamo a fare molto, però se ci uniamo sicuramente riusciremo ad avere più visibilità e ad essere conosciuti di più. I tuoi ricordi, i tuoi affetti, i tuoi investimenti futuri sono qui, in Abruzzo. Leggo a te, in Abruzzo. Grazie.